Insediato ufficialmente questa mattina il nuovo Consiglio Comunale di Terra Nuova Bracciolini. Come annunciato in precedenza, Grifoni, Quaoschi e Trabucco confermati assessori, con le due nuove entrate Tognazzi e Bigiarini. Nominato invece Presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Ciarponi. Ad inizio seduta sono stati ricordati Salvatore Conti Canalaro e Mario Malavisti, venuti a mancare prematuramente. Per anni sono stati fra i banchi del Consiglio Comunale, presenti oggi anche i familiari. Con la nomina degli assessori Bigiarini e Tognazzi entrano in maggioranza i primi non eletti, cioè Loriana Valoriani e Daniele Lapi, che si vanno ad aggiungere a Mauro Bigazzi, Leonardo Ciarponi, Francesca Poccetti, Camilla Migliorini, Paolo Del Vita, Gabriele Scaramucci, Cesare Rogai, Marta Tofani e Maria Rosa Sacchetti. L'opposizione è invece composta da Mauro Di Ponte, Massimo Mugnai, Greta Nuzzi, Omar Ciabattini, consigliere più giovane in Toscana con i suoi 19 anni e Sabit Kaur. Emozionato il primo cittadino al suo terzo mandato. Veramente c'è grande emozione perché nonostante io provenga da dieci anni di mandato di sindaco, ogni volta che inizia una nuova avventura c'è veramente l'onere e l'onore di rappresentare la propria comunità al meglio. Sono molto felice delle persone che mi accompagneranno in questa avventura. L'auspicio è veramente che ci sia collaborazione anche tra maggioranza e opposizione perché di fatto ciò che deve essere primario è l'interesse della comunità di Terranove e dei nostri cittadini. Di Ponte promette un'opposizione leale ma attenta. Strano vedere i due ex alleati nelle due parti opposte oggi del parlamentino comunale. Ci ha tenuto a sottolineare il fatto che noi da oggi inizieremo a fare davvero politica. Una politica che sia più attenta ai cittadini, una politica leale, una politica trasparente e che appunto sia tra la gente.